Si rafforza la sinergia dell'ASL 1 con l'arma dei carabinieri con cui già si sta collaborando con i tamponi nei drive-thru. L'iniziativa presentata oggi è per raggiungere gli anziani che non riescono a prenotarsi sulla piattaforma. L'arma con le sue stazioni locali, che sono 60, riesce a coprire tutto il territorio e i suoi 108 comuni, molti dei quali più interni non hanno connessioni internet. Andiamo a utilizzare degli strumenti anche tecnologici presenti soprattutto a parte dell'arma in termini di collegamento. Quindi nelle loro stazioni in cui si arriva, mi dicevo prima anche parlando col comandante, addirittura ci sono dei collegamenti con internet anche tramite satellite, riusciamo chiaramente a avere un approccio, un contatto con la piattaforma per poter far prenotare quelle persone che invece avrebbero delle grosse difficoltà proprio per motivi logistiche legati appunto al paese dove vivono. Il comandante provinciale Nazareno Sant'Antonio ha illustrato i particolari. Gli anziani potranno chiamare il 112 facendo intervenire le stazioni locali a domicilio, ma anche recarsi nelle caserme per essere supportati. Diverse persone hanno già chiamato anche una signora di 102 anni. Possono le persone anziane che desiderano vaccinarsi, possono recarsi presso le caserme dei carabinieri per effettuare la protazione online attraverso la nostra strumentazione tecnologica a disposizione dell'arma dei carabinieri. Nel caso in cui una persona anziana abbia difficoltà a raggiungere le nostre caserme potrà chiamare il 112 e previo appuntamento si presenterà a domicilio il comandante della stazione dotato di un tablet così come esattamente questo che vedete a fianco a me. Il direttore sanitario Alfonso Mascitelli considera la collaborazione di fondamentale importanza come provincia ha detto quella dell'Aquila e la seconda in termini di percentuale di vaccinate rispetto alla popolazione. Questo ci stimola. Mascitelli ha fatto riferimento a qualche disagio nei centri vaccinali perché ha spiegato si stanno gestendo le due piattaforme contemporaneamente, quella aziendale per fragili over 80 da smaltire e quella attiva da poco delle poste. Testa è soddisfatto dei risultati, a mano a mano si faranno tutti gli aggiustamenti necessari. Noi abbiamo messo in campo una macchina organizzativa imponente, molto impegnativa nella quale qualche piccola sbafatura ci può essere. E' chiaro, questi sono elementi problematiche che noi dobbiamo cogliere, cercare di risolvere, superarle e non fare in modo che non si ripetano. Quindi sì, i numeri ci danno conforto e ci danno un ulteriore stimolo per aumentare ulteriormente le dosi che dobbiamo andare a somministrare strettamente legate anche alle notevoli quantitativi di vaccini che ci hanno detto stanno per arrivare. Grazie.